Nella clinica che frequentavo si dava molta importanza alla pratica, mentre lo studio teorico dell'anestesia era lasciato alla libera iniziativa delle specializzanti. Fu un'ottima occasione per concentrarmi sugli ammalati diventati ormai prossimi e per cercare di conoscerli e di trattarli con quell'amore sul quale alla fine della vita sarei stato esaminato. Così facendo mi trovai ben presto avvantaggiato su colleghi che vedendone i pazienti solo casi più o meno interessanti non ottenevano i miei stessi risultati. Allo stesso modo cercavo di star vicino al capo anestesista per aiutarlo nel suo lavoro ed anche qui venne a scoprire tante cose che nessun libro riportava, tanto più che di libri di anestesia non esistevano. C'erano soltanto riviste molto costose, nessuna in italiano che occorreva richiedere all'estero e sulle quali solo ogni tanto si trovava un articolo interessante per cui occorreva tempo per scegliere, tradurre, per confrontare e il profitto alla fine non era molto. Io poi col nuovo genere di vita che mi faceva scoprire dappertutto prossimi bisognosi di aiuto non riuscivo facilmente a concentrarmi in una preparazione teorica, tra l'altro non molto considerata dai nostri insegnanti. Però avvicinandosi gli esami mi domandai se dovessi far qualcosa anche in questo senso. Non ebi però modo di darmi una risposta perché i miei colleghi, sempre più preoccupati e nervosi, cominciarono a turno a farmi partecipi del motivo della loro tensione. Un articolo che non erano riuscite a capire, una formula che non ricordavano, un metodo che non appariva chiaro. Praticamente la settimana prima degli esami fui quasi costretto, per la carità nei loro confronti, ad ascoltarli, a riesaminare con loro articoli, formule e metodi e siccome le riviste erano già tradotte e molte nozioni già elaborate, mi feci, senza volerlo, un'ottima preparazione, con relativamente poco sforzo. All'esame fumo tutti promossi ed io primo in grado autoria. Questo risultato fu notato dal direttore della clinica, che dopo pochi giorni mi offrì un lavoro con lui in una casa di cura privata. Era un posto molto ambito e ben retribuito, per cui molti si felicitarono con me. Tra loro c'era un collega, alla vigilia delle nozze, che non aveva nessuna sicurezza di sistemazione futura. Mi fu spontaneo offrire quindi a lui quel posto, e siccome il direttore voleva proprio me, fece di tutto per mettergli in luce le qualità del mio collega, al punto che lo persuase ad assumerlo. O è matto o c'è qualcosa, fu il commento che udì fare, non visto, da due colleghi che parlavano fra loro, ma siccome matto non è, e non finirono la frase. Questo qualcosa lo notarono molti, e si riflette anche sulla professione libera che occasionalmente esercitavo. Un giorno venne a conoscere una giovane donna, madre di due figli, che soffriva di insonnia. Aveva consultato molti medici, ognuno dei quali le aveva consigliato un sonnifero diverso, ma l'insonnia era rimasta. Per di più si era creata in lei una totale sfiducia nei medici e nelle medicine. Ascoltandola attentamente, tirò fuori che il marito era disoccupato, e che i bambini non stavano bene. Pensai che quella preoccupazione poteva essere la causa della sua insonnia. Infatti, quando dopo alcuni giorni, attraverso i miei amici, riuscì a trovare un lavoro per il marito e una sistemazione per i bambini, la donna ritrovò il sonno senza bisogno di farmaci. La cosa fu risaputa e aumentò rapidamente il numero di coloro che volevano essere visitati da me. Furono altrettante occasioni per mettere in pratica la carità e dar testimonianza, specialmente a chi mi conosceva prima, della nuova vita che avevo iniziato. Una pausa al lavoro intensissimo fu rappresentata dall'estate che trascorsi come assistente medico in una colonia marina. Intanto Oreste, Piero e Giorgio avevano programmato le vacanze a Tonadico e mi invitarono per andare con loro, ma io, a causa dell'impegno preso in precedenza, dovetti rinunciare. Il collegamento con Ginetta fu mantenuto attraverso lettere settimanali che portavano la parola di vita e qualche notizia. Lettere e notizie che trasmetteva a Guglielmo che stava prestando il servizio militare. La colonia marina di Sarzana era costituita da un centinaio di bambini, da dieci vigilatrici tutte sui vent'anni, da un direttore, un cappellano, entrambi anziani, e da me. Essendo io l'unico giovane in mezzo a tante ragazze e avendo subito suscitato una certa curiosità a causa della comunione quotidiana, cercai di tenermi appartato, passando molto tempo in stanza, a leggere e a scrivere. Ma una notte una vigilatrice venne a svegliarmi perché un bambino stava male, aveva la febbre alta e delirava. Non sapendo di cosa si trattasse, diedi un antipiretico e iniettiai penicillina. La signorina mi assicurò di continuare le sue amministrazioni. In quel tempo la penicillina veniva iniettata ogni tre ore. Ma io non ero tranquillo, e stete alzato tutta la notte per sorvegliare le condizioni del bambino. Gli altri medici non facevano così, disse meravigliata la vigilatrice. Perché non va a riposare? Le parlai del prossimo, e le dissi che cercavo di essere coerente col cristianesimo che professavo. Allora lei mi parlò di sé, della sua famiglia, diciotto fratelli oltre i genitori e una zia, del papà ormai anziano, un vero patriarca, pieno di saggezza e di esperienza, del cristianesimo che tutti insieme si aiutavano a vivere e della pace che regnava fra tutti, pur fra le immancabili difficoltà. Mi disse dell'amicizia che aveva legato suo padre a Pio X e al cardinal Ferrari, e del suo desiderio di essere più brava per essere all'altezza di ciò che papà e mamma le insegnavano continuamente. Dal racconto di come si comportava coi fratelli e le sorelle, tutti più giovani di lei, mi pareva che fosse già abbastanza brava, e così le parlai dell'ideale e della nuova vita che avevo conosciuto. Fu molto bello, e al mattino, che arrivò in un attimo, eravamo entrambi felici. Se ne accorsero tutti in colonia, e questo mi consigliò di raddoppiare la prudenza, anche se non mi sarebbe sembrato vero di avere qualcuno con cui parlare liberamente. Ne scrissi a Ginetta, e ne scrissi anche un sacerdote di Carpi, amico di Guglielmo e mio, con cui un giorno si era parlato a lungo in fuci sulla scelta dello Stato. Lui sosteneva che un giovane deve cercare una ragazza se vuole sposarsi. Io replicavo che bisognava solo stare attenti a ciò che Dio faceva capire. Siccome in quel mese si viveva la parola di vita, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù, gli scrissi che in questa frase trovavo un'ulteriore conferma a ciò che già prima pensavo. Mentre però scrivevo, fui come folgorato da un'idea. La ragazza per me, Dio forse, me l'aveva fatta trovare. Entrai in crisi, perché, anche se confusamente, l'incontro con l'ideale l'avevo percepito come una chiamata. Cosa significava ora questa nuova esperienza? Cercai di calmarmi e di non pensare. A chi mi ama mi manifesterò. Questa frase di Gesù che avevo sentito tante volte era ora il momento di viverla più che mai. Mi buttai a giocare coi bambini sulla spiaggia, trovai un buon rapporto col direttore, e passai ora intera col cappellano che aveva tante cose da raccontare. Intanto lei scrissa a Ginetta, la quale le rispose, fissandolo un appuntamento per dopo le vacanze. Al ritorno dalla colonia estiva, ottenni un posto di assistente nella clinica chirurgica, e divenni l'anestesista più richiesto dai chirurghi dei diversi reparti. Spinto dalle carità, cercavo di far bene le cose e non mi preoccupavo del guadagno, elementi questi che furono entrambi molto apprezzati da tutti. Il lavoro in clinica mi prese talmente che riuscì solo a tenere i contatti essenziali col movimento, in pratica solo con Ginetta, quando ero a Milano. Anche con lei mi incontravo solo al raduno della comunità, e qualche volta ci sentivamo per telefono. Mio padre vuoi conoscerti, mi disse un giorno, ed io, rubando pomeriggio alla clinica, mi recai da lui. Fu un collocchio bellissimo, tutto spirituale, che mi riempì l'anima e me la dilatò sulla chiesa passata, presente e futura. Veramente un patriarca, come aveva detto lei, mai avrei immaginato questo in un padre di famiglia. Di lei mi parlò solo per dirmi che gli sembrava fatta per essere una brava mamma. Quanto a me, seguissi la mia strada. Quando uscì dal colloquio, ero sicuro che la mia strada non era in matrimonio. Intanto, nella clinica dove lavoravo, avvennero degli spostamenti. L'aiuto chirurgo vinse la cattedra di Pisa, e chiese a me se volevo seguirlo. Mi offriva una bella carriera, un buon stipendio e la docenza. A me però interessava sapere cosa ne pensasse Ginetta, e gliene parlai. Mi ascoltò a lungo, e poi mi disse, porterai l'ideale a Pisa. E così partii.